Carlotta Ventura, Ferrovie dello Stato. Vieni, Carlotta. Parte un treno. Parte un treno, capito? Ma se hai ferrovie, fermalo. Ferma un treno. Lo potete fare. Ma proprio il tuo deve partire puntuale. No, ma capito, devo andare via. Parte un treno, non prendo l'aereo. Vai e prendo l'aereo. No, il treno, ma... Di modalità. Ma proprio il tuo è un puntuale parte. Cioè, di solito... Partono tutti puntuali. Tutti puntuali ormai, è così? Tutti puntuali. Tutti puntuali partono, tutti puntuali arrivano. Senti, io ti ho agganciato al Ministro del Lavoro perché voi, come Ferrovie dello Stato, siete venuti a parlarci di lavoro, vero? Sì. Vai, prima che parte il treno. No, sì. Parte il treno per me, parte il treno per tutti, nel senso che abbiamo scritto qua The Future of Everything, questo è il titolo. Abbiamo volato basso quest'anno. Sì, proprio bassissimo. Però io vengo dalla presentazione del piano industriale di ferrovie per i prossimi dieci anni, 94 miliardi di investimenti. Per far funzionare 94 miliardi di investimenti ci vogliono persone. Il amministratore legato ha parlato di un passaggio dai 69 mila attuali ferrovieri a 100 mila in dieci anni. 30 mila posti di lavoro? 30 mila posti di lavoro tra merger and acquisition e nuove assunzioni. Comunque è tanto. Quindi sono qua in realtà per fare una call for action o call to action. Ai ragazzi che sono qua fuori, studiate, preparatevi. Cosa serve per essere assunti in ferrovia adesso? In ferrovia dello Stato? No, adesso, dieci anni. Nei prossimi anni. Servono preparazione, idea, coraggio, tecnologie, digitale. Competenze digitali? Sì. Cioè il ferroviere del futuro ha bisogno di digitale? Tutti noi, ferrovieri o pedoni, avremo bisogno del digitale. E quindi dobbiamo lavorare su questo. Avremo tante ragazze, perché una della mia presenza, io purtroppo sono un archeologo, ho studiato 30 anni fa, però se le ragazze si avvicinano alle materie scientifiche, c'è posto per le ragazze. è una delle grandi opportunità che dobbiamo utilizzare, uomini, donne, ragazzi. Lì fuori c'hai 25.000 stamattina, studenti delle scuole. Vi volete assumere tutti. 25.000 ci siamo. 25.000 spero che non tutti facciano prova. Magari fanno anche qualcuno, fanno anche l'archeologo, dice andava a Ostia Antica, non qua. Senti, mi dicevi, 31.000 in 10 anni. 30.000 tra l'assunzione in 10 anni. Quanti subito? Oggi 1.000, per esempio. Guarda, l'altro giorno sono stati assunti di 18 giovani laureati. C'ho qua il pezzo di carta. Me l'hanno preparato. Possiamo digitare. Sì, molto, però, scusa, c'è stato qualcuno prima. Con FSA Competition, due giorni di business game, nove donne e nove uomini assunti. Nove donne e nove uomini, brevissima. Buon treno, buon viaggio. Grazie, scusate. Grazie.